ciao a tutti sono raffaele pezzulli e faccio il doppiatore oggi sono qui per rispondere ad alcune domande che mi sono state poste dal mio amico davide gravina la prima domanda è come ti sei approcciato al mondo del doppiaggio bene allora il mio approccio al mondo del doppiaggio è un pochino anomalo rispetto alla norma nel senso che io mi sono approcciato al mondo del doppiaggio che ero già piuttosto adulto a differenza di molti miei colleghi che cominciano questa carriera da quando sono molto piccoli io invece pur avendo avuto sin da quando ero bambino una grande passione per la recitazione per per interpretare dei personaggi per per fare delle voci ero anche mi piaceva anche molto scrivere inventare delle storie comunque ho dovuto aspettare di essere abbastanza grande e di potermi permettere i corsi da solo quindi ho cominciato come doppiatore soltanto una decina di anni fa un po come i ragazzi della mia generazione ho cominciato attraverso un corso di doppiaggio a quale poi ne sono seguiti anche degli altri di maggior approfondimento ho avuto diversi maestri anche nomi illustri come Roberto Peticini e Cristian Nianzante dopodiché ho cominciato con con la gavetta i piccoli ruoli i brusì come si chiamano in gergo e e poi niente insomma come ho cominciato a a fare una a fare l'attore ecco diciamo che nonostante io abbia seguito dei dei corsi per l'appunto come come doppiatore come attore in realtà si può dire che io nasca in maniera io si può dire che sono un autodidatta non ho mai seguito un vero e proprio corso di recitazione teatrale o cinematografica i miei maestri io posso posso dire sono stati i grandi attori del passato un mio amico una volta mi ha detto tu hai imparato a recitare guardando ed ascoltando i grandi film e non posso certo dire che avesse torto nel senso che già da piccolissimo sono sempre stato un appassionato del del cinema ma non del cinema qualunque ma del cinema con la c maiuscola ho sempre amato il il cinema d'autore non necessariamente insomma le pellicole commerciali ma quel cinema di di registi che avessero qualcosa da dire uno stile molto personale fra i miei registi preferiti posso sicuramente citare stanley kubrick christoph kieślowski o roman polanski insomma non necessariamente insomma registi del cinema più commerciale diciamo che in effetti probabilmente questa mia passione per per il cinema è stato ciò che mi ha spinto maggiormente a voler intraprendere anche questo questo tipo di mestiere quello che mi ha dato la la preparazione sufficiente per poter affrontare poi un'interpretazione molti doppiatori sono anche attori di teatro anch'io ho fatto teatro ma anche in questo caso mi è capitato di cominciare di fare un po il percorso all'inverso io ho cominciato a recitare con la voce perché prima avevo fatto soltanto piccole piccole cose con con la mimica in spot pubblicitari in video musicale in cui però non era richiesto che io recitassi parlando le mie prime interpretazioni sonore sono state proprio attraverso il doppiaggio e in seguito sono passato invece al al teatro ho esordito a teatro pochi anni fa avevo già cominciato la mia carriera di doppiatore infatti ho esordito a teatro proprio insieme ad alcuni miei colleghi doppiatori insomma è stata un'eccellente esperienza e anche se io avevo un piccolo ruolo avevo avevo scelto io di fare un piccolo ruolo perché essendo la mia prima volta su un palcoscenico avevo un po di timore su quello che poteva essere il mio impatto con il pubblico tuttavia è stata un'eccellente esperienza abbiamo esordito con un testo di shakespeare il molto rumore per nulla e ho avuto la soddisfazione di vincere anche un piccolo premio come miglior attore caratterista quindi diciamo che è andata piuttosto bene un'altra delle domande che davide mi aveva posto era quali sono stati i personaggi che ho preferito maggiormente interpretare ecco anche qui non non direi che c'è un singolo personaggio che ho preferito rispetto ad altri sicuramente ci sono alcuni personaggi che hanno significato di più rispetto ad altri primo personaggio che mi viene in mente è il personaggio di una serie televisiva a cartone animati chiamata rekit rabbit in cui io interpretavo un ragazzino che si chiamava walli che era un uno degli amici del protagonista ed è uno dei ruoli che più mi restano nel cuore perché è stato il primo ruolo che io abbia interpretato primo ruolo fisso quello che mi ha permesso per l'appunto di non fare semplicemente una comparsa comparsata in una puntata ma di seguire l'intero percorso della serie dopodiché altri personaggi di una certa importanza che mi piace ricordare sono stati c'è stato il personaggio il personaggio in un documentario il documentario the wolf pack il mio personaggio era uno dei sei fratelli protagonisti di questa pellicola era il giovane jagadish credo che fosse il più piccolo della famiglia e anche questo personaggio lo ricordo con particolare affetto perché è stato il personaggio che mi ha fatto guadagnare il primo credit sui titoli di code insomma la prima volta che ho potuto vedere il mio nome scritto fra le voci del cast del doppiaggio in seguito devo ricordare anche il tassista di lost river interpretato dall'attore reda kateb anche qui è stato un personaggio riconosciuto nei credit finali anche se non ha effettivamente un nome semplicemente il tassista è comunque un personaggio che ha la sua importanza nella storia e devo ricordare anche il doppiaggio dell'attore victor pontecorvo nel film la corte anche qui un personaggio di poche parole ma comunque funzionale al racconto e fra i protagonisti veri e propri della storia i miei e quindi non mi sto a ripetere su quello che è per l'appunto il mio amore per il cinema classico il mio amore per il cinema d'autore non ho un vero e proprio genere preferito però diciamo ecco come dicevo anche prima mi piacciono quegli quegli artisti che hanno uno stile personale un loro preciso modo di approcciarsi alle storie beh più o meno credo che questo sia tutto vi ringrazio per l'ascolto un saluto ancora a davide